Buongiorno da ETG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come di consueto in contemporanea streaming anche sul nostro sito etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV. In primo piano una tragedia che si è consumata dopo un incidente l'ennesimo autostradale all'altezza di Grotta Mare e in questo caso il bilancio delle vittime è davvero drammatico perché i morti sono tre. Un papà con due figlioletti, in particolare una bambina di 13 anni, un bimbo di 8, un ragazzino, un terzo di 12 anni invece in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Ancona nella galleria di Grotta Mare tra San Benedetto e Pedaso. Si tratterebbe di un incidente frontale tra auto e camion all'interno della galleria Castello a doppio senso di marcia per lavori dove già il 15 gennaio scorso era morto Simone Cotichini di Ascoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con delle code verso Bari, la segnalazione di incolonnamenti di due chilometri tra Pedaso e Grotta Mare. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a San Benedetto dove c'è un chilometro di coda può rientrare a Pedaso dopo aver percorso la statale 16. Sul posto presenti i personali di autostrade, polizia stradale, vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Ovviamente vi terremo aggiornati. Ancora la cronaca con l'udienza in questo caso del processo sulla lanterna azzurra alla strage di Corinaldo. Ieri in aula le dichiarazioni dei componenti della Magica SRL tra cui l'amministratore unico della società che gestiva il locale. Sentiamo. Davvero sconvolgente tutto questo, però cerchiamo di assorbire tutto e arrivare a una conclusione seppur dolorosa nel più breve tempo possibile. A essere sconvolgenti per il fratello di Benedetta Vitali e per gli altri familiari delle sei vittime della lanterna azzurra di Corinaldo sono le dichiarazioni rilasciate in aula dall'amministratore unico della Magica SRL, la società di gestione del locale Francesco Bartozzi. Ascoltato come testimone nel corso dell'ultima udienza al Tribunale di Ancona, Bartozzi, che ha già definito la sua posizione patteggiando una pena di due anni e otto mesi, ha raccontato di come, durante i controlli effettuati dalla Commissione di Vigilanza all'interno del locale, nell'ottobre del 2017, per il rinnovo della licenza, non fossero emerse criticità nell'uscita di sicurezza, dove poi, la notte dell'8 dicembre 2018, morirono le sei vittime della tragedia. Rimasero ferite altre persone. In particolare, ha detto che criticità non furono rilevate nemmeno sulla balaustra, che poi crollò sotto il peso delle persone accalcate sulla rampa. Nel corso delle sue dichiarazioni, Bartozzi ha anche chiarito come, nonostante il suo ruolo, di fatto la gestione del locale fosse completamente in mano a Marco Cecchini, DJ e gestore di fatto della discoteca, e a Carlo Antonio Capone, socio della Magica SRL, entrambi già condannati con rito abbreviato a 5-4 anni. Nel corso delle dichiarazioni, è arrivato a definirsi un prestanome che si limitava a firmare i documenti che due soci gli sottoponevano, e di come fosse risaputo da tutti, che in serate che prevedevano artisti e ospiti, come quella organizzata con Sfera e Basta, la capienza del locale venisse superata. Un tema, quest'ultimo, è emerso più volte nel corso dell'udienza, in particolare durante l'ascolto di un altro test che a sua volta aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico per la Magica SRL, prima di Bartozzi. Nel corso delle sue dichiarazioni, è emerso come di fatto neanche lui si occupasse della gestione del locale, nonostante la carica ricoperta dal 2014 al 2015, e di come in quegli anni il locale fosse stato chiuso in due occasioni, prima per carenze relative alla sicurezza antincendio, e poi dalla questura, che a gennaio 2015 aveva sospeso alla discoteca la licenza di pubblica sicurezza. La decisione, anche a seguito di un esposto anonimo, che denunciava la somministrazione di alcol ai minori e la violazione dei limiti di capienza del locale. È stato anche riferito in aula che c'era una coscienza generalizzata della mancanza di tutti i requisiti di legge, però l'istruttoria deve finire, insomma poi vediamo all'esito. Cambiamo argomento ora il caso della nave migranti, che sembrava dovesse arrivare al porto di Pesaro nella serata di ieri. Invece il dietro fronte era stato anche lo stesso sindaco Matteo Ricci ad annunciarlo. In mattinata, dopo una prima riunione con la prefettura, erano attesi 109 migranti, soccorsi da scorsa notte dalla CIA4, tra loro anche molti bambini e tra l'altro il piccolo che ha dovuto assistere alla morte della mamma, morta prima dell'arrivo dei soccorritori. Nei prossimi giorni arriverà, aveva detto il sindaco Ricci al porto di Pesaro, un'imbarcazione ONG. In serata la prefettura ha fatto sapere di aver ricevuto la notizia che lo sbarco non ci sarà e che la nave è invece diretta verso un altro porto. La riunione operativa, prevista per la mattinata di oggi dunque, è stata conseguentemente annullata. Da sindaco e da essere umano, aveva detto ancora il sindaco Matteo Ricci, mi chiedo se sia normale che l'imbarcazione davanti alla costa libica debba fare oltre 2000 chilometri per raggiungere il porto di Pesaro. Che senso ha tenerli in questa imbarcazione per giorni? Che meccanismo ha messo in atto? Si è chiesto Ricci il governo dal punto di vista della ragionevolezza umana e del buonsenso. Crediamo nell'accoglienza diffusa, aveva concluso, faremo la nostra parte fino in fondo. Come detto in serata, il dietrofront, a causa del mare in burrasca e delle sfavorevoli condizioni del mare, per l'appunto la CI4 è stata fatta sbarcare, dirottata meglio, non sbarcata, dal Viminale al porto di Napoli. Parliamo ora di turismo con l'inaugurazione della nuova sede dell'Agenzia per il Turismo delle Marche. Il tentativo, la missione e l'obiettivo, quello di sviluppare il brand marchigiano, soprattutto sui mercati esteri. Taglio del nastro ad Ancona per l'insediamento della nuova Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche, ospitata nel palazzo, già sede della Camera di Commercio delle Marche. Grazie alla Regione Marche che ha scelto la sede della Camera di Commercio qui di Ancona, al quarto piano per posizionare la sede istituzionale dell'ATIM. Chiediamo che questa collaborazione tra istituzioni sia un valore aggiunto. Abbiamo sposato e condiviso pienamente la linea del Presidente di Acquaroli, ovvero di unire il turismo con l'internazionalizzazione. Sono due campi importanti che oggi con l'ATIM metteremo in campo. Credo che questa agenzia rappresenti un po' un punto di partenza, una leva fondamentale per metterci in condizioni di essere più conosciuti, riconosciuti e anche più competitivi. di attrarre verso di noi un flusso di turisti e portare le nostre merci, i nostri territori, il nostro know-how, le nostre eccellenze nel mondo. Dai paesi consolidati come Germania, Austria e Svizzera, l'obiettivo ora è quello di allargarsi anche ai nuovi mercati aperti dai voli turistici, in partenza da Ancona, dunque Francia e Inghilterra. Il tutto abbracciando settori fino a oggi inesplorati. Saremo la prossima settimana alla BIT, che è sicuramente un evento estremamente importante, e poi andremo ovviamente alla seria conquista dei grandi mercati internazionali. Questo è il nostro principale obiettivo, riuscire a raddoppiare la presenza dei turisti che vengono dal resto del mondo. Quindi passare dal 20%, che oggi è un po' poco da questo punto di vista, arrivare almeno al 40%. C'è sicuramente la novità di entrare in due settori che non sono stati ancora esplorati dal punto di vista turistico. Quindi penso al turismo business, turismo mais e poi al turismo del lusso. E questo nel segno della collaborazione tra enti e della sinergia tra turismo e internazionalizzazione. Io dico che il presidente Sabatini e il presidente Acquaroli sono i miei due angeli custodi, perché questa sintesi, questo mix, può far veramente svolgere alle Marche quel ruolo da protagonista anche nel settore del turismo, che per tutte le eccellenze, per tutte le bellezze che ci sono in questi territori, bisogna rivendicare con grande forza e con grande orgoglio. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Grazie per l'attenzione, l'augurio ovviamente di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.